La vita è la storia delle popolazioni nomadi degli Avar Nehshin in Iran, analizzate per mezzo di un'interrogazione visiva nelle montagne di Zagros, in cui il popolo risiede e che mette a nudo la storia sociopolitica e la violenza che circonda le persone in quei territori. È la regista iraniana Nagme Abasi, la vincitrice di Israel 2023, il Festival del Cinema del Reale organizzato dall'Isredi Nuoro. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera e consacra l'ottava edizione come celebrativa del Cinema del Reale al femminile. Tutti e quattro i premi quest'anno sono stati assegnati a film firmati da donne, incluso il premio della giuria giovani. Ha vinto una regista iraniana che per la prima volta ha portato il suo film fuori dal proprio paese, di questo siamo felicissimi. Il secondo premio è andato ugualmente a una regista donna ungherese e il terzo premio a una regista spagnola di origine sarda, quindi un palmarès totalmente al femminile. Se aggiungiamo anche il premio a Monica Dovark per la sezione scenari sardi con il suo pioniere nel sottosuolo. Prima della cerimonia di chiusura, Israel ha proposto al pubblico l'ultimo documentario di Enrico Pau, L'ombra del fuoco, sui luoghi devastati dall'incendio nel Montiferum del 2021, con il pubblico che ha applaudito a scena aperta. Proprio la partecipazione calorosa del pubblico è stata una delle cifre di questa edizione, con la sala piena anche nelle proiezioni del pomeriggio, che tradizionalmente nei festival sono meno affollate, merito anche del grande lavoro di squadra del Dietro le Quinte. Sono veramente orgoglioso perché abbiamo fatto un grande lavoro, sia col gruppo di lavoro interno, dei dipendenti, che devo ringraziare perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro, sia in fase di organizzazione, sia durante la gestione del festival, non è stato facile, però siamo veramente contenti. E anche molto dell'integrazione che c'è stata tra i dipendenti, la direzione artistica, tutta la struttura del servizio tecnico-scientifico, che è stata veramente molto, molto sul pezzo.